Perchè le rompono? Perchè? Perchè? Ma non si rassegna? Se no tu che devi venire a fare la raccolta differenziale, se no le rompono. Vabbè, se non inserire, scusa Angelo. No, c'è più gusto così. Dove va la pigna? No, la pigna è biologica. Magari è proprio pieno di pigna. La roba secca non è biologica. Chi è? Ma c'è? Pure le patate? Non c'era un limone. Pure le patate? Va, va. Il vetro chi ce l'ha? Maria. Maria? Ma infatti io solo a vederla quella, mi sapevi delle candane. Le candane è proprio la minopauta. Ti raccoglie? Ti raccoglie? Ti raccoglie? Abbastanza, abbastanza, ce n'è, ce n'è. C'è un po' di tutto. Considera che siamo una ventina di persone, ce n'è, ce n'è. Però molto meno di quanto ci aspettavamo. Ma i televisori li abbiamo trovati? Un televisore, un lettore mp4 in premio a chi raccoglierà di più. Compreso di cuffie ma senza caricabatterie. Capitanessimo online. Buonino. Angelo, inflazionerà il video. Fa caldo. Inflazionerà il video. Ciao. Ciao. E io ho diffuso la notizia del premio, eh. Chi ha quelli di più, il lettore mp4. E io ho tutte, senza caricabatterie. E io ho tutte.